I professionisti è la prima, quindi insomma una bella soddisfazione, soprattutto perché ha regalato i tre punti alla squadra che penso sia la cosa più importante. Sono molto felice perché ovviamente meritavamo questa vittoria, abbiamo messo veramente tanto impegno, tanta voglia e anche quando le giocate venivano un po' meno come nel secondo tempo, accusando un po' di stanchezza, insomma non abbiamo mai perso lucidità e penso che il risultato sia giusto così. È stata una partita un po' diversa dalle ultime, nel senso che col campo pesante è chiaro che i valori tecnici vengono un po' meno e c'è tanta battaglia, tanta guerra, tanti contrasti e siamo stati bravi a metterla su quel piano. Nel primo tempo sinceramente abbiamo giocato un po' meglio dal punto di vista tecnico, abbiamo creato qualcosa di quello che avevamo provato, poi nel secondo, dopo il pareggio, un attimo la partita si è un po' incattivita, ci sono state tante interruzioni, però come ho detto prima siamo stati lucidi fino alla fine e penso che il risultato sia giusto. È una partita che oggettivamente sembrava quasi pareggiata e invece ci abbiamo creduto fino alla fine, da squadra che voleva a tutti i costi la vittoria, nonostante le difficoltà, nonostante la stanchezza e nonostante l'avversario che era comunque di valore. Quindi bravi tutti e ci godiamo questa vittoria, adesso torneremo ad allenarci ancora più forte di prima in preparazione del Tour de Force che avremo nelle prossime settimane. Insomma, dobbiamo cercare di fare necessità virtù, come ti dicevo già in precedenza, abbiamo dei giocatori che sono fuori, speriamo di recuperarli, cercheremo di mettere benzina per il Tour de Force delle prossime settimane, non possiamo fare altrimenti, quindi attendiamo, ci alleniamo al meglio e ci faremo trovare pronti quando si rinunca, penso. Grazie a tutti.